Cofoundry arriva a Roma, arriva a Roma nel centro della capitale in piazza Barbelli, uffici dedicati alle microimprese, alle PMI e aziende corporate. Il motivo per il quale abbiamo scelto Roma è esattamente perché dopo le quattro strutture a Milano e una a Genova abbiamo deciso che la capitale fosse per noi importante. Le persone che stanno già iniziando a visitare i nostri spazi sono tutti molto favorevoli e gentili ed hanno apprezzato molto i nostri servizi che sono plus. Ve li racconto in brevissimo anche perché Cofoundry è un co-working e un business center e voi sapete benissimo che cos'è un co-working e un business center ma chiaramente vi voglio raccontare il motivo per il quale voi dovreste scegliere Cofoundry. Cofoundry ha dei servizi plus che sono dedicati alle aziende, i nostri servizi hanno dei nomignoli che noi chiaramente abbiamo individuato con un incipit che è il co, co di community, condivisione, networking. Coneuse è un servizio a disposizione delle aziende, noi diamo la possibilità di conoscere le 80 aziende che ci sono in Cofoundry grazie ad un'organizzazione della nostra receptionist che permette davanti a un caffè o a un bicchiere di vino di confrontarsi tra le varie aziende che hanno una sinergia tra di loro. Un altro servizio importante per le nostre aziende è co-interview, diamo la possibilità alle aziende che si avvicinano alla nostra community di avere un'intervista dedicata a loro, la possibilità di raccontare ciò che fanno e ciò che fanno per il loro business. Questo permette di riprodurre l'intervista sui nostri social. Tutto il mondo dell'accoglienza, per noi l'accoglienza è molto importante, quindi chi si occupa, la responsabile dei vari uffici di Cofoundry ha la possibilità di accogliere il tuo cliente a tuo nome e portartelo direttamente nel tuo ufficio offrendogli un caffè o un bicchiere di vino. La possibilità di portarlo nella tua sala a riunioni, sempre a nome tuo, perché il messaggio che mi piace passarti è esattamente quello della tua identità. Ciò che vogliamo comunicare è esattamente quello di accogliere il cliente a nome tuo in modo tale che tu ti senti proprio a casa tua, esattamente nel tuo ufficio, non presso un co-working, ma nel tuo ufficio. Hai la possibilità di personalizzare il tuo spazio. Se all'interno del tuo spazio hai piacere di mettere il tuo logo o di inserirlo sulla porta d'ingresso, è assolutamente una cosa per noi gradita ed è una cosa che dà valore alle aziende che abbiamo all'interno. Il messaggio che ci piace passare è dare un servizio a 360 gradi, quindi tutto quello che è per te un'esigenza per noi diventa un servizio da replicare per te e per le nostre aziende che sono all'interno. All'interno del pacchetto costo hai la possibilità di utilizzare le sale a riunioni due ore al giorno e di utilizzare tutti i servizi all'interno di co-foundry. Puoi utilizzare gli spazi interni nell'area lounge e gli spazi esterni che sono nei giardini dedicati o nelle terrazze dedicate. Inoltre puoi prenotare le tue sale a riunioni attraverso il CRM puoi avere una tua area personale dedicata sempre con il tuo nome. Questo è co-foundry, oltre a queste tipologie di attività ce ne sono tante altre. Abbiamo la possibilità di prenotarti il tuo viaggio di lavoro, tutto ciò che un po' ti può aiutare a vivere al meglio la tua vita privata all'interno di un contesto lavorativo e di business. Io sono Erika Turchetti, founder di co-foundry. Noi teniamo molto la relazione con le aziende, per questo motivo abbiamo il piacere di presentarti in prima persona, sia io che il team di co-foundry, gli nuovi spazi di Roma. Vienici a trovare, ti aspettiamo!